gt sport top team presenta giulia tz2 1965 sono aperte le iscrizioni per questo fantastico evento ragazzi la giulia tz2 è una delle alfa romeo più belle di sempre ma anche quella con la carriera sportiva più breve ma questo lo racconteremo un'altra volta adesso ragazzi preparate carta e penna alla mano e scriviamoci qua tutto quello che c'è da sapere per questo evento quindi poi non venite a dire non ce l'avevi detto com'è come non è ragazzi è tutto scritto qua segnate tutto e scendete in pista allora aprite il portafoglio tirate fuori 10.000 crediti e comprate questa bellissima vettura mettetela in garage fate una bella livrea mi raccomando non c'è bisogno di sponsor una livrea nostalgica una livrea retro una livrea di una volta e allora ragazzi portiamo in pista questa vettura e facciamola rivivere ancora una volta per segnare la storia di gran turismo con gt sport top team io billy bulli sono già qua seduto a scaldare le gomme ma che dico a bruciarle a fare segnali di fumo per indicarvi dov'è la strada giusta per san croix b vi aspetto di vedere questo circuito strapieno per questa finale perché veramente è un evento che merita merita la presenza di tantissimi tantissimi appassionati che verranno da tutte le parti del mondo con bandiere cappellini magliette tutto parlerà dei gt sport top team e dei team che partecipano a questa grande famiglia e allora ragazzi siamo qua ancora una volta con un evento che segnerà la storia 10 milioni di crediti ragazzi non è per tutti quindi ragazzi un evento per molti ma non per tutti chi saranno i cinque fortunati trovateci sui social billy forte e giuseppe catabbiano iscrivetevi alla pagina gt sport top team iscrivetevi al canale azionate la campanella per essere sempre presenti ai nostri fantastici eventi e mentre io vado di traverso ragazzi siamo già arrivati al momento dei saluti ancora una volta segniamo la storia segniamo la storia di gran turismo e adesso un bel burnout per salutare tutti lasciamo giù un po di pneumatico una striscietta nera per terra con scritto billy bulli vi saluta vi mando la cartolina e vi aspetto qua a san croix ciao ragazzi ciao iscrivetevi